Dov'eri, Harvey? Ciao, Jim. Mi stavo solo... ...bevendo un bicchierino. Perché non ti unisci a me? Non adesso. Andiamo, Jim. Non fare così. Avanti. Siediti e bevi un goccio con me. Quei poliziotti ti aspettavano. Già, per sputarmi in faccia. Ammesso che volessero farlo, saresti dovuto essere lì. In piedi, davanti a loro. Guardare ciascuno negli occhi. Se tu l'avessi fatto... ...forse avresti ottenuto il loro rispetto. Non merito il loro rispetto. Jim ha sparato all'agente Patel. Che diavolo avrei dovuto fare? Stare davanti a lei e consegnarle in mano il proiettile che ho sparato dalla mia pistola? È il tuo lavoro. Sei responsabile di quello che succede ai tuoi poliziotti. Quindi ora... ...tu dici a me cos'è il lavoro, eh? Sì. Beh, oggi Jim, io... ...non sono riuscito a fare il mio lavoro. Quindi ho mandato te. Perché sapevo che tu ci saresti riuscito. Non è sufficiente. Non oggi. Avevano bisogno di Tegli. Beh... ...non c'è nulla che io possa fare adesso. Hai una penna? Per cosa? Carvey Bullock. Sei sollevato dall'incarico. Da adesso assumo io il grado di capitano della centrale di Gotham. Bene, bene. Guarda chi ha finalmente quello che voleva. Ma mi viene un dubbio. Cosa hai dovuto fare per averlo? Ho fatto il mio lavoro come te. Niente a Gotham! È gratuito! Capitano Gordon. Spera solo di poter pagare alla resa dei conti. Arriverà presto. Spera solo di poter pagare alla resa delle cosa qui... Non la mamma che voglia di far il possibile.